Anche il liceo Publio Virgilio Marone di Avellino, tra le tantissime scuole a livello nazionale che hanno aderito alla notte dei licei classici, è stato il Mediterraneo il tema della loro rappresentazione, il mare Nostrum con le sue culture che si incontrano, le identità che si fondono, un mare polifonico dove oggi riecheggia purtroppo il suono della morte per le tante tragedie legate ai migranti. Un tema di grande attualità che gli studenti del liceo della collina dei Cappuccini hanno saputo ben interpretare con la lettura di brani classici e l'ambientazione della mitologia greca, perché il liceo classico con il fascino e il suo mare di conoscenze non passa mai di moda. Abbiamo proprio deciso di sottolineare il Mediterraneo e il Mediterraneo polifonico perché è stato il mare culla della civiltà che con la sua posizione particolarmente favorevole ha permesso il confronto fra civiltà, identità, saperi diversificati, dandoci quella ricchezza culturale, storica di cui noi adesso possiamo usufruire. Il Mediterraneo oggi viene presentato come un luogo di scontro di civiltà, ma in realtà prima di essere luogo di scontro è stato luogo di scambio, di incontro, di confronto, di idee, di merci e anche di donne. Parleremo di Medea, di donne, di Elena per cui nasce la guerra di Troia, la storia delle storie, quella dell'Ilia dell'Odissea. I ragazzi si sono appassionati al tema e sono entusiasti.